Le Brigate Rosse sono un'organizzazione terroristica di estrema sinistra che ha avuto un ruolo significativo nella storia recente dell'Italia. Il gruppo è stato fondato nel 1970. L'obiettivo delle Brigate Rosse era quello di destabilizzare il sistema politico italiano attraverso un'azione violenta, con la speranza di innescare una rivoluzione comunista. I loro metodi includevano attentati dinamitardi, sequestri, rappimenti e omicidi, diretti principalmente contro personalità del mondo politico, economico e istituzionale. Il loro simbolo era una stella a cinque punte su sfondo rosso, da cui il nome Brigate Rosse. Uno degli atti più noti commessi dalle Brigate Rosse è stato il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro, un prominente politico italiano e leader della democrazia cristiana, nel 1978. Il gruppo è stato progressivamente indebolito da arresti e da una perdita di sostegno popolare, soprattutto dopo l'omicidio Moro. Nel 1984, i leader storici delle Brigate Rosse decisero di sciogliere il gruppo, sebbene alcune cellule minori abbiano continuato a commettere atti di violenza fino agli anni 90.